oi scemo gli schiaffi di liberi per te schifoso guarda che avrei rivista come ci hai trovati alla puzza in quanti siete solo voi due non dovresti essere fuori a cercare l'altra che cazzo sai sai il contrabbandiere che abbiamo ucciso jackson c'era anche lei cosa cercano vendetta per questo hanno fatto a pezzi nick dobbiamo portarla a isaac e dirgli esattamente che cosa sta succedendo beh ho appena sentito a isaac via radio abbiamo nuovi ordini eliminare il giro e frena 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 non ha senso senti un ordine dire no parliamolo e scopriamo che cosa sa ma che cazzo me ne frega di cosa sa hai visto anche tu cosa ha fatto agli una idea di quanta gente potrebbe avere con lei potrebbe essere un imboscavo non mi interessa quali sono li troveremo e li uccideremo puoi pensare con la tua testa almeno per un secondo chi c'è la sua devo fare qualcosa triangolo vieni vetrino vieni vieni sposta le manine prendi il vetrino brava e taglia come quadrato maledetto schifoso vai vai tuo tuo grandelli eh il colpi è certo è una di loro muoviti la guardiamo dopo c'era uno studio tv sulla mappa che cazzo ne so è lì bastardi c'è il fucile un'arma c'è un colpo ah mi pare c'è un colpo uno e due secondo no bastardo aspetta 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 io prenderei un po' di kit prima dice a girarli ok te me li tieni però me li tieni aspetta e prendo un altro kit non so mai sì ci vado ci vado te resisti però ok è andata non ho più colpi ottimo cambia arma niente peggio anche l'altro ottimo andiamo dove messe trovo qualche colpo si lo so ci c'è però se qualche colpo non posso fare niente d'avviso mattone quando c'è niente aspetta un attimo qui ma c'era qualcosa a un colpo qualcosa un colpo marcio eccolo qui almeno un colpo ce l'ho che cazzo altro non c'è niente niente ma andiamo può andare con un colpo qui mi sta di agguato e c'è un colpo la testa da prenderla o anche così anche così ultimo mi ha spaccato la faccia c'è dei colpi l'ho visto cazzo buttato a merda vieni 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 dai che ce la faccio non ce la faccio non ce la faccio ora ce la faccio dai due di meno forse ma c'è te che cazzo andati là mi sono morto mi sono messo malissimo invece non sono morto è fattibile la cosa non avevo colpi eh no ho colpi mi sa che era rimasto l'ultimo non mi devo far vedere vieni 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 oh l'arma l'arma tutto bene per ora là sopra c'è qualcosa vedo illuminarsi no occhio schivata ok buono due di meno ho capito da dove arrivano devo andare verso i colpi là c'è dei proiettri vanno da quella parte vado da questa parte è tu eh spara brava Maggie non c'è più sai eccolo se uno solo è fatto oh aiutami corri 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 te corri te questi tutti no no mi dà un'occhiata se trovo qualcosa qua non c'è niente niente qui niente qua ci sarà qualcosa una barretta una cazzo di bottiglia come mi serviva ok andiamo là vai cazzo e ora caffetteria resto qui io di qua dei vini è stronzo belli steli e cazzo mi ha fatto una paura ok e basta baby devo ammazzarne uno a quel tavolo ammazzarla per favore grazie Dina grazie yes sir ok ammazzarla per favore ok ok ammazziamo il sud con me subito uno di meno mi dà niente schifoso ammazziamo quella cretina ma dobbiamo andare su di là dobbiamo andare su di là e passami davanti che arrivo subito ma la torcia ma la torcia non la vede tanto comunque la torcia dovevo mettere che si vede faccia vedere vai gira vai gira cazzarola stai ferma stai ferma cazzarola una per volta sono troppi è andata è andata è andata morto morta qui qui mi ha preso mi ha preso qui quindi arrivano altri ok va bene dai proviamo a fuggircela voglio tutti qui giù si si ciao va vai non ce la andiamo subito non lo so guarda il cortile tu alla caffetteria io resto qui ok andiamo adesso dobbiamo uscire da dove faccia un po' di roba da prendere però dobbiamo ammazzare questo in silenzio via subito via subito via subito via subito vai vai devi spara quell'altra spara gli spara gli per favore ma perché non carichi le armi? perché? nel momento di sparare non era carico bene ma dove mi ha visto questa stronza? guarda più assoluto quella lì assoluto lei prendo mi fa il giro alla stronza e mi vede, è capito? zitta, 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 non è successo niente, buono, buono, buono vai che passa eh sì, guarda quanto ti pare e non ho ancora porto i colpi ma l'avevo evitato ma come sono brutte le morti, madonna cattiva maledetta dai, mi ha capito come fare ci mettiamo qui aspettiamo lei non lo so guarda il cortile alla caffetteria dopo una stordente ammazzarli tutti ammazzare sta stronza che è una specie di comandante prima che si gira quello la vai, 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 così baby vai, brava ora mi hanno pendeculato a stronzo così non farlo girare zitto, non è successo niente, zitta, buono, buono zitta, zitta ok cazzo tanta gente là c'è da dove siamo mi piace mi piace sto punto mi vedevi stanno andando di là non ci sono perlustriamo l'area staniamole uno è lì l'altro non posso attaccarlo ancora c'è un attimo mi guarda ora potrei qualcuno le vede qualcuno le vede qualcuno le vede chiudi la porta terra 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 vediamo questa fermati merda indietro 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 qui ok sta andando bene ora l'altro l'altro Alleluia, finiti? Ok così si fa. Siamo andati qua? E non me lo potete dire prima? Se ne andavamo subito no? Uno, due qui? Vediamo se riusciamo a scappare. Come può essere scesa in sotto? Non lo so. È stato segnalato? Greg è andato a capitolo. Dovrebbe rientrare con coitizia momenti. Vai. Dov'è? Guarda la butto di sotto. Se rimane così la butto di sotto. Guarda la butto di sotto. Siamo di qua? Non ne hanno tre. Io ne vedo una. Ma magari possiamo andare anche da un'altra parte. Vattene via. Andate dai, andiamo. Andate via. Andate dai. Andate via. Dobbiamo andare qua, vai. ok chiapa 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 cos'è sta roba e poi ci dite qualsiasi intruso manderemo altre unità a cercare quella donna tornata nel buon posto a finisce una portare tutte provviste disponibili ottimo ma vediamo se sono riuscito a livellare qualcuno di questi energia voglio incrementare l'energia 60 ne ho 112 mi pare e vado allora siamo incrementata ottimo posso mettere anche questo vado va bene non mi interessa però era obbligo a farlo ok vai carichiamo va vedere la cartuccia era pronta non è mai male cazzo è bloccata come passiamo che ne dici passiamo di qua vai che abbiamo 1 2 3 pulicane pulicane dobbiamo andarcene da questa scuola ora dovrebbe esserci un modo per scendere in strada come si scende? si può saltare da qui e là? andiamo abbiamo un po' di rovetta recuperiamo tutto delle action figure e qua un po' di pillole in medicina ok passiamo di qui vai occhi ora aperti rincuole che questi sono merdosi dobbiamo tornare in strada si va a farmi raccogliere tutto quello che c'è qui perché se già mi fanno prendere cose la vedo dura feroline niente e un po' di alcol boh mi sembra che sono messo abbastanza bene dai vediamo qua ok ok non c'è nessuno si sembra sicuro bene vieni a vedere chi è questa qua? non ho ancora capito ma chi è? ah grazie che si fotta allora leggi la lettera Jordan Isaac ci ha segnati per due settimane intere allo studio tv viene avvistata in zona questa è per farti compagnia Lia lo studio tv eh pensi sia ancora lì non resta che scoprirlo perché una di quelle che ha ucciso era l'Anea mentre uccidevano a Joel è vicino a questi palazzi alti di là ok prendiamo Lia prendiamo Lia Lia si chiama te la fai sempre facile eh